permesso come buongiorno buongiorno ero venuta a ritirare lo cestino della frutta l'ho data mamma ieri sera beh scusa niente come chi è ti posso dire una cosa ma è lunga noni no senti ti posso parlare come una mamma è vero che la mamma del carabiniere viene a trovare figlie fosse quella che chiamano la statua si ne quelle perché ti hai fatto qualche pensiero si ne ce penso ma come quello non apre mai bocca per una puna che è invece un carabiniere ma io ho capito che c'è una simpatia mi guarda tutto stralunato ma è vero che la mamma si signore la mamma del carabiniere viene dal trentino per rivedere il figlio e si trattiene per la festa e se dov'è alloggi noni alla casa di nonne Emide e se come state l'arci prete del trentino ha scritto un'emide se poteva trovare una stanza fra i suoi parrocchiani un'emide su quella scritta che l'alloggiama a casa sua e no Paoletta la nipote del prete si imbazzisce e s'ordinata con vestite le scarpe le scarpe e sai che si dice che Paoletta si sposi il carabiniere chi lo dice la gente non può essere senti cosina mia scordata lo sto carabiniere le voglio tanto bene levatelo dal cuore e sentimi no non può essere chiacchiere della gente che chiacchiere chiacchiere come l'è gli matrimoni mi sente come il cane senti la lepre beh scusa no non vuole questa faccia tu sei la più bella Giulietta del paese le spose le trovi le trovi andi